La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Non è possibile che in piena crisi sanitaria, in piena crisi socio-economica, non siano state bloccate le demolizioni delle case abusive in Campania. Chiariamo subito un abuso è un abuso e va punito. Se esistono case abusive a rischio idrogeologico o pericolanti vanno evacuate. Ma io certe realtà le ho potute toccare con mano perché stanno avvenendo sul mio territorio. Ho potuto raccogliere testimonianze, vedere documenti. Stiamo parlando di case costruite negli anni 90, perfettamente agibili, che attendevano soltanto la documentazione da parte dei comuni e in molti casi documentazione regolarmente pagata. Si ricordano di abbattere queste case 30 anni dopo nel pieno di una pandemia in una regione in zona rossa. Case abitate da più nuclei familiari, da tanti bambini e vi assicuro che le hanno abbattute nei quartieri di quarto pianura a Napoli ma anche tante sull'isola d'Ischia, sempre in provincia di Napoli, mettendo intere famiglie per strada. Sono stati sospesi gli sfratti per gli inquilini che non pagano il canone e non sono state sospese le demolizioni. Anzi, molti giudici si rendono conto dell'assurdità di quello che sta avvenendo ma dicono che non esiste al momento una legge che permetta di riconsiderare gli abbattimenti. Riconsiderare, badate bene, non vuol dire che una casa abusiva debba restare in piedi. Vuol dire che se hanno aspettato 30 anni ne aspettano un altro che finisca la pandemia. Vuol dire fare un ordine delle demolizioni partendo dagli abusi più grandi che non riguardano sicuramente le case private. Cominciare ad abbattere gli ecomostri, poi gli abusi dei grandi alberghi, poi le case disabitate, poi le case pericolanti, poi le case a rischio idrogeologico e poi, dopo aver cercato una soluzione per le famiglie che invece vivono in case abusive ma che pagano le utenze, che pagano le tasse, perché per assurdo io ho visto documentazione rilasciata dai comuni per case che stanno per essere abbattute, perché c'è sempre un gap legislativo che crea un cortocircuito a danno ovviamente di intere famiglie. Ora, il mio non vuole essere un appello ad assecondare o a giustificare illeciti o abusi. Il mio è un appello ad agire con umanità e secondo coscienza. Se quello che manca in alcuni casi per salvare le case dove vivono famiglie e bambini è un semplice cavillo legislativo, caspita, riunitevi, affrontate il problema, analizzate caso per caso. Invito a chi ci ascolta a guardare su youtube le scene degli abbattimenti di ischia, quelli di quarto, di pianura, sono scene strazianti, c'è gente e bambini che stanno perdendo tutto in piena pandemia. E perché? Perché ancora non c'è l'apposita legge, ma vogliamo tornare a pensare agli esseri umani. Sindaci, faccio appello a voi parlamentari che rappresentate quel territorio. Ma che state aspettando? Ma l'avete una coscienza? Torneremo nuovamente su questa questione. Cerco anche di fornirvi immagini e documentazione. Approfondimenti sul sito francescomodeo.it. Un caro saluto agli amici di Radio Radio. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.